Ecco, come definire Gastone Moschino un attore che conosciamo tutti, teatro, cinema, televisione? Un attore per tutte le stagioni, ti piace questa definizione? Dunque, hai sempre fatto personaggi bellissimi, simpatici, sprizzano simpatie i tuoi personaggi, sempre. Cinema? Beh, cinema è una stagione, adesso ultima. Sì, con Amici miei, prima Signore e Signori con Germi, però è vero, sono un grande successo. Sì, sono un grande successo. Poi, Amici miei, numero uno, numero due? Due, e adesso faremo parte terza, ultima parte, saremo alla fine, insomma. Sarete in un ospizio di vecchi, insomma. Sì, tutti ormai ricoverati alla fine. Dove ricombinerete di tutti i colori. Delle nostre... Beh, che ha dato soddisfazione il cinema, sì? Sì, 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 devo dire di sì.